Ad una settimana dalla sua partenza per l'Equador, prima tappa del suo viaggio apostolico in America Latina, nel corso del quale visiterà anche Bolivia e Paraguay, Papa Francesco ha inviato un video messaggio ai popoli che incontrerà. Il mio desiderio, spiega, è quello di essere tra voi, condividere le vostre preoccupazioni, manifestare il mio affetto e vicinanza e rallegrarmi insieme a voi. Voglio essere testimone di questa gioia del Vangelo e portare la tenerezza e la carità di Dio, nostro padre, aggiunge il Papa, specialmente ai suoi figli più bisognosi, quelli che sono vittime di questa cultura dello scarto. Tutti devono esprimere questa misericordia, spiega ancora Papa Francesco, avvicinandosi, facendosi prossimo, non passando oltre. Vi prego di unire le vostre preghiere alle mie, conclude il Pontefice, perché l'annuncio del Vangelo arrivi alle periferie più lontane e che continui a far sì che i valori del Regno di Dio siano fermento della terra anche nei nostri giorni.